Esbruck a segno da tre Esbruck che non esita, si alza ancora Capisce tutto, pipitone Grande prodezza invece di Simons Decide di andare fino in fondo, prende la parte sinistra dell'area di attacco Appoggia al cristallo, 31-13 C'è un gran numero da parte di Hamilton E c'è Simons Bravo, pipitone, gran movimento Arriva Simons, che mette d'accordo tutti, schiaccia E gran numero anche per Pocchioni Amici, appoggia al tabellone e segna Appoggia al tabellone e segna Rappoggia al tabellone e segna Di un'edadio a tutti e seguite Capisce il affatto Grazie a tutti Grazie a tutti